La Fonderia è un ambiente di lavoro complesso in cui ci sono degli impianti sofisticati e che necessitano una competenza di dettaglio. I lavoratori che operano all'interno dello stabilimento devono essere consapevoli di ciò che fanno per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri. Da poco meno di un anno in Zanardi Fonderie è partito il progetto Mettiamo Cidi Occhiali che serve per sensibilizzare il personale al rispetto delle regole interne che derivano da ciò che ha stabilito il legislatore e il datore di lavoro. In base ai ruoli e alle attività svolte all'interno dello stabilimento tutti noi siamo obbligati ad indossare dei DPI che sono i dispositivi di protezione individuale tipo scarpe antifortunistiche, occhiali di protezione, guanti, ghette e sono regolamentati dalle istruzioni operative interne. L'abbiamo chiamato così Mettiamo Cidi Occhiali perché gli occhiali in senso metaforico devono farci vedere tutti meglio determinate situazioni, anzi devono aiutarci nel vederle allo stesso modo. E l'immagine stilizzata dell'occhiale ci fa ricordare quella che è l'importanza dell'utilizzo dei DPI durante la quotidianità. Il punto cardine della nostra politica aziendale è l'ambizioso obiettivo dello zero infortuni. Abbiamo predisposto all'interno di ogni reparto dei safety corner delle lavagne magnetiche dove i preposti capireparto possono dare evidenza della loro vigilanza sia in maniera positiva che in maniera negativa. Una volta al mese i referenti di reparto fotografano quello che è il contenuto del safety corner per successivamente andarlo ad analizzare tutti assieme ed eventualmente avviare progetti di miglioramento oppure sessioni di formazione dedicata. Io lavoro nel reparto metallo liquido uno tra i reparti più delicati e complessi dello stabilimento. Il mio ruolo è quello di capo turno inoltre sono da molti anni rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentante sindacale. Mettiamoci gli occhiali ha portato una maggiore sensibilità nei confronti della sicurezza da parte degli operatori verso se stessi e verso i propri colleghi. Quando entriamo in reparto e notiamo le faccine erose sulle lavagna ci ricordiamo sempre che dobbiamo sempre migliorare nel nostro lavoro e questo lo dobbiamo fare sia come gruppo che come singolo. Il progetto Mettiamoci gli occhiali è stato pensato e realizzato appositamente anche per questo cioè per rafforzare quello che è lo spirito di gruppo all'interno di ogni reparto. Mettiamoci gli occhiali